E' tra l'aria! E' tra l'aria! E' tra l'aria! Mister Baroni, buongiorno. Buongiorno. Ho avuto modo di parlare con i ragazzi, sia in prospettiva di Latina e anche ormai già vigilia. E in che termini? No, abbiamo fatto l'analisi della gara e così ho rivisto anche la partita. Una buona gara perché comunque Latina ha fatto una partita sopra le righe. Secondo me, insomma, io avevo visto le prestazioni loro e hanno fatto una prestazione veramente importante, ordinata, con giocatori che si sono aiutati, con patta. Quindi è stata anche una partita non facile per noi. Il fatto che comunque abbiamo concesso poco e abbiamo avuto anche, secondo me, un paio d'occasioni per far gol, va bene, insomma. Quindi adesso abbiamo avuto veramente solo il tempo per guardare qualche filmato e ora ci siamo rivolti invece a questa gara che è una gara difficile e importante. Da ritrovare il pizzico di cattiveria e di coraggio anche. Lei ci ha abituati a queste espressioni, soprattutto quella del coraggio. Sì. Perché con un pizzico di coraggio in più a Latina. Sì, sì. La cosa che io... Cioè, da una parte sono anche contento, no? Di come l'ambiente valuta queste prestazioni e di come anche gli avversari ci affrontano, no? Perché vedere comunque in Latina che ci fa la partita addosso, cercando comunque di... Questo ti fa capire che qualcosa stiamo facendo di importante. È chiaro che, come ho detto prima, non dobbiamo sbagliare e spostare l'obiettivo di pensare che Lanciano debba andare per forza fuori casa a vincere. Noi vogliamo vincere perché io vi assicuro non parlo mai ai ragazzi di risultato perché dico sempre che il risultato è la componente della prestazione che facciamo. Poche volte può capitare nel calcio di giocare bene e perdere ma alla lunga se tu fai la prestazione, senti la prestazione, porti a casa anche il risultato. Quindi abbiamo dato continuità di prestazione e adesso dobbiamo pensare velocemente a un campo difficile, lo sapete, forse è il campo più difficile della B perché comunque è un terreno... Già giocare su un sintetico, un campo veloce perché praticamente erba non ce n'è più quindi la palla è come giocare in un... diventa velocissima, i rimbalzi. Ci sono tante difficoltà in questa gara e quindi niente, sono molto curioso. Sono curioso perché ci vorrà una squadra importante, una squadra vigorosa, con personalità e sicuramente anche quella determinazione che ci vuole per affrontare una squadra che sicuramente farà di tutto per vincere la gara. Mister, intanto, torna solo un attimo a Latina, è importante che da tre partiti la difesa, la squadra, non prende gol. Mi pare, diceva Federica, che dopo il Bari la difesa meno perforata, insomma, più ha preso meno gol e questo è un fatto importante. Per restare invece a quello che diceva lei, che diceva che occorre una squadra vigorosa, ricca di personalità, insomma, hai in mente un turnover abbastanza ampio? Ci sarà qualche cambio perché secondo me è il momento anche proprio perché recuperare le energie dopo non è facile anche se non deve essere un alibi, anzi io ho proprio stimolato ieri i ragazzi a dire che è solo un aspetto mentale spesso, però ci sono alcuni ruoli dove secondo me abbiamo la possibilità di mettere i ragazzi dentro che io considero titolari, ve l'ho già detto e quindi questi cambi non devono assolutamente, anzi non voglio sentire parlare di turnover perché il turnover sembra una cosa di... no, chi andrà in campo lo dovrà fare, io non ho dubbio da titolare, quindi da affrontare la gara con lo stesso piglio, impegno e determinazione perché è giusto così e quindi... Non le seconde linee, ma un turnover tra pari diciamo No, no, infatti io non voglio sentire parlare di turnover perché il turnover sembra... lo fa la Juventus quando fa giocare magari qualcuno che gioca meno No, no, noi qui abbiamo... io continuo a ripeterlo, ma non lo dico perché lo devo dire nei titoli lo dico perché ci credo, perché non è pensabile considerare ragazzi che hanno fatto fino adesso bene e che stanno comunque allenandosi bene, seconde linee Mi sarebbe detto alla vigilia della partita con Latina che uno tra Casarini e Piccolo avrebbe tirato il fiato ci ha preso di infilata perché ha inserito Brukel e in pochi se l'aspettavano adesso immagino che toccherà Piccolo e per quanto riguarda il centrocampo è scattata la prima squalifica con Paghera a tutto... Minotti giocherà sicuramente perché Nadir ha fatto sempre bene, quindi Nadir adesso gioca poi vediamo perché, ripeto, mi prendo ancora qualche ora di tempo però secondo me è giusto dare spazio a qualcun altro perché poi c'è anche un'altra gara dopo nemmeno tre giorni però io questa ecco, la cosa che ci tengo particolarmente è che non va interpretata, non va presa come un qualcosa di... no, è una gara importante, anzi importantissima perché fare un bel risultato a Castellammare secondo me darebbe veramente un lustro importante perché io so che è un campo difficile, ho visto le partite la classifica è no bugiarda di più, la loro e quindi ci sono giocatori importanti, è una rosa importante dai Di Carmine, Scozzarella... Squadra abituata alla Serie B Squadra vera, squadra vera quindi so che è una partita veramente molto difficile Braglia lo conosce? Piero lo conosco, conosco il suo valore, conosco le sue qualità è un allenatore, un tecnico che prepara le partite e quindi questo aumenta ancora di... io quando vi dissi, no, noi dobbiamo essere orgogliosi e fieri di affrontare questi impegni difficili come quando dovremo andare a Palermo, come quando dovremo andare a giocare allo stadio a Pescara squadre blasonate, stadi importanti Castellammare è una di quelle partite difficili perché l'ambiente, il campo e la squadra sono... è una delle trasferte più difficili che ci sono e... è una delle trasferte più difficili che ci sono e la squadra è una delle trasferte più difficili che ci sono